Un incontro per affrontare i temi legati alla realizzazione della Pede Montana, dal percorso alla sua valenza strategica, alla presentazione del tracciato, all'analisi del quadro economico. E a coordinare la serata è stato il rappresentante dell'Associazione Canton Bialese, architetto Massimo Guavello. Poi gli interventi dell'ingegnere Alberto Perini, del consigliere comunale di Della, del geometra Mario Ianno e del geometra Giancarlo Lacchia e del consigliere provinciale Paolo Rizzo. Emersa l'assoluta necessità di realizzare il collegamento e la determinazione di monitorare puntualmente tutte le fasi per giungere all'appalto. Il gruppo di pressione ha preso atto della difficoltà di integrare la somma già stanziata per la revisione prezzi richiesta da ANAS. Il clima registrato è stato quello di una forte partecipazione e determinazione con la consapevolezza che, se i lavori non dovessero partire nei tempi stabiliti, verranno vanificati oltre 20 anni di aspettative. A conclusione del dibattito, l'intervento del Presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha sottolineato la propria vicinanza a questo territorio, chiarendo che la settimana scorsa, con il Ministro Salvini, aveva posto la questione della pedemontana biellese tra le priorità. Il gruppo ha anche ribadito al Presidente della Regione che l'unica strada da percorrere è aggiungere alle somme già stanziate la quota della revisione prezzi. Inoltre, Canton biellese ha ufficialmente richiesto la data per un incontro tecnico con la dirigenza ANAS.